Benvenuto al Presidente del Consiglio del Comune di Sesto San Giovanni che vuole parlarci dell'evento di quest'oggi, dello sportello polifunzionale che molto presto entrerà, anzi in parte è già entrato in vigore presso il Comune di Sesto San Giovanni. Buongiorno, io vi ringrazio, ringrazio a voi soprattutto di essere qui oggi, questa giornata per me la ritengo molto importante, è un primo passo verso un cambiamento che ci siamo proposti di effettuare in corso del comune e questo sarà sicuramente per i cittadini un momento di anche arricchimento importante, quindi io non posso essere che felice di questa cosa e ringraziare tutti voi per essere qui e contribuire a migliorare quella che è la città di Sesto San Giovanni. Grazie e buongiorno a tutti.